Ciao, io sono il cane Yuko e oggi vi mostro un posto incantevole che ho scoperto. Ci troviamo in Toscana, in particolar modo, nel parco fluviale in provincia di Siena. Non è magnifico? Tutto è iniziato quando la mia padroncina mi ha detto che avremmo dovuto scendere e salire 4 km di scaleli. Ma ne è valta la pena per guardare questa splendida vista. Anche se poi avevo un sacco di sete, ma per fortuna quell'acqua non mancava. E poi abbiamo superato degli ostacoli insormontabili, come questo percorso di tronchi. Anche se la mia mana, beh, non aveva molto equilibrio. Ma la sua fortuna ovviamente è stata avermi al suo fianco. Infatti, l'ho aiutata io ad attravertare quei lunghi ponte di pietre. Beh, o perlomeno ci ho provato. E poi quando tutto sembrava tranquillo, è successa una cosa inaspettata. Infatti, sono sbocati dal nulla loro. Ehi, ma chi sono? Beh, dato che sono tutti gialli, devono essere per forza dei Minions. Aspetta, ma dove state andando? C'è una cascata di là, fermi! Ma perché ogni volta devo sempre essere l'eroe? Uffa, ho paura! No, scherzavo, scusate, torno indietro, come non detto. Questa cosa dell'eroe in acqua non fa affatto per me. Così mi sono asciugato e li ho aspettati pazientemente tutto il tempo sulla riva. Ma poi per fortuna la mia madre mi ha detto che erano sani salvi.